E adesso cambiamo argomento, ma qualcosa che in realtà è maturata proprio nel periodo del lockdown, infatti parliamo oggi di super bonus, una delle misure che infatti sta riscuotendo enorme successo in questi ultimi mesi, come stiamo vedendo proprio visibilmente dai tanti cantieri presenti nelle nostre città ma anche nei nostri condomini. Ma qual è la situazione ad oggi, quali le novità? Le chiediamo al nostro ospite qui in studio a mattina live, Ferdinando Romano, Presidente Gruppo Giovani Ance Napoli. Buongiorno, grazie per essere qui con noi oggi. Dunque il super bonus, una misura che sta riscuotendo davvero enorme successo perché in realtà i suoi obiettivi sono inizialmente semplici, ovvero migliorare la sicurezza sismica e ridurre i consumi energetici dei nostri edifici, supportando anche a contempo il settore edilizio. Sì, cerchiamo prima di fare un quadro generale della situazione e poi magari ci andiamo a sviluppare l'argomento sulle osservazioni e sulle criticità che poi sono maturate. Il super bonus è un'agevolazione fiscale che è stata introdotta con il cosiddetto decreto rilancio, con la legge 34 del 2020, che ha dato la possibilità al beneficiario di andare a detrarre fino al 110% delle spese che sono sostenute per interventi edili, seguendo due filoni. Da un lato, come lei diceva prima, tutto quello che ha a che fare con la riqualificazione energetica degli edifici e dall'altro lato un intervento un po' più strutturale, quindi ha a che fare con il consolidamento statico, quindi fare attività di prevenzione sismica. Il super bonus 110 è una misura che è andata ad integrarsi con altre due misure che sono state introdotte nel 2013, l'eco bonus e il sisma bonus che avevano quasi la stessa finalità e che ha visto poi un'ulteriore proroga con l'ultima legge di bilancio del 2022. In effetti ci sono state delle novità che sono intervenute in tema di scadenza, ovvero della possibilità di detrazione fino al 110% entro il 31-12 del 2023, il 70% entro il 31-12 del 2024 e il 65% entro il 31-12 del 2025. Ora cercando di essere concreti, noi abbiamo da un lato un esempio tipico il condominio e dall'altro l'azienda esecutrice dei lavori. Vi è la possibilità da parte del singolo condominio o del condominio di andare a detrarre fino al 31-12 del 2023 sulla propria posizione fiscale il credito che matura dall'esecuzione dei lavori. Oppure utilizzare un'alternativa, quella di cedere il credito, quindi quella metodologia del cosiddetto sconto in fattura, all'impresa che ha poi la possibilità di cederla o ad un altro fornitore o ad un istituto di credito o ad un altro intermediario finanziario. Come lei diceva prima, l'introduzione di questi bonus fiscali, non mi riferisco solo al super bonus 110, quindi anche all'eco bonus, al sisma bonus, ma anche al bonus facciate che è stato prorogato dal 90 al 60%, al bonus ristrutturazione al 50%, sono tutte misure che dagli ultimi studi è risultato che gettano un pilastro per il rilancio dello sviluppo edilizio non solo a livello locale ma a livello italiano con cifre che arrivano ad incidere fino al 75%. Infatti gli ultimi dati di Banca Italia e gli ultimi dati del Ministero parlano di nuove assunzioni del settore edile che toccano cifre di 150 mila unità. Questo sicuramente permette anche di restituire l'Infa alla nostra economia, un motore di grande svolta e di grande sprint, però è pur vero che ci sono delle criticità in atto per quanto riguarda questa misura del super bonus, non si imprimisce quella burocratica e poi come diceva lei, parlando di varie proroghe nel tempo, il fatto è che comunque questa misura vive di continue modifiche normative. Allora come bisogna comportarsi? Sì, infatti questa è una criticità che noi come operatori del settore riscontriamo ormai da mesi. In effetti è come se i vari governi che si sono sosseguiti, anche quello attuale, non riescono a trasferire quel clima di certezza necessario a noi operatori di riuscire ad effettuare una programmazione di investimenti quantomeno a medio termine. Esatto, questo è cruciale questo aspetto. Chiediamo come ance giovani, chiediamo la possibilità di avere a disposizione uno stabile sistema di regole, ma le dico di più, in questo clima di incertezza non siamo solo noi operatori economici che andiamo in difficoltà, dall'altro lato dicevo prima l'esempio di che il condominio comincia ad entrare in difficoltà, gli istituti di credito, le banche, poste, cassa, depositi e prestiti, perché la risposta che in questo clima di incertezza loro ci stanno dando è quella di attendere la definizione, quindi avere al completo l'impianto normativo su cui ancora adesso si sta lavorando. Si sta lavorando sull'impianto normativo, perfetto, però in questo caso come tutelare i condomini o comunque chi decide di attuare la misura del superbonus, perché ci sono anche molti casi legati a truffe, no? Sì, a frodi, infatti non a caso. Potrebbe essere proprio la motivazione perché magari in assenza di un quadro normativo definitivo e completo ci si può insinuare e in questo caso danneggiare poi chi decide di maturare e attuare il superbonus. Noi come aziende Dili, come Ance abbiamo avanzato una serie di proposte come la possibilità di fare in modo che le aziende che operassero nel settore privato, in modo particolare che si avvicinassero al settore dei bonus, fossero dotate di un sistema di qualificazione, un po' come avviene per le gare d'appalto, dove lì c'è una SOA, ovvero un'attestazione che dà a me la possibilità di poter eseguire lavori per la pubblica amministrazione. Magari anche se con qualche variante è possibile adottare un sistema simile a quello adottato quindi nel regime pubblico. Un altro aspetto sicuramente da non sottovalutare è il fatto che se il meccanismo comincia realmente ad incepparsi, le imprese cominciano ad avere timore, c'è il rischio di una minore occupazione in tal senso e quindi potrebbe verificarsi... Un regresso di quella che comunque è la posizione digitale... Esattamente, una perdita di posti di lavoro, considerando che già il settore idile tra il 2008 e il 2018 ha subito un forte carico. Ha subito un forte carico. Tra l'altro c'è anche questo altro aspetto di cui stiamo parlando, ovvero il rincaro dei prezzi e quindi anche il rincaro dei materiali che appunto al mondo delle dinizie serve e che va poi a danneggiare in corso d'opera le aziende e quindi a catena anche i privati, i cittadini. Quindi da questo punto di vista come tutelare anche questo altro aspetto e chi ha il compito di tutelare e di supervisionare allo stesso? Diciamo che è quello del meccanismo dell'aumento dei prezzi, un meccanismo abbastanza complesso. Ma anche la mancanza del riferimento di materiali, perché i multimateriali, lo sappiamo, non sono reperibili al momento. Questo potrebbe comportare ancora nell'attuazione della ristrutturazione un periodo piuttosto lungo. Certo, noi come categoria edile, come ance, siamo coscienti del fatto che non è un problema solo italiano, ma è un problema internazionale, molto probabilmente derivante da logiche di installazione di nuovi equilibri geopolitici. Però il fatto è questo, detto in termini molto semplici, se i prezzi cominciano ad aumentare realmente, si presume nel terzo trimestre dell'anno corrente, cominciano ad aumentare in maniera ancora più consistente, dall'altro lato ci potrebbe essere un assestamento o addirittura una diminuzione dei consumi. E questo non farebbe altro che allargare la forbice, perché chi offre prodotti, chi offre dei servizi è costretto ad aumentarne il prezzo, quindi allarga sempre di più. La forbice del governo dovrebbe intervenire. Senta, velocemente dobbiamo chiudere, il riferimento per chi volesse attuare questa misura ancora non l'ha fatto, ce l'abbiamo? Velocemente, un riferimento? Sì, certo, assolutamente. Noi come categoria ANCE, come associazione costruttore DILI, siamo disponibili a qualsiasi tipo di intermediazione di colloquio, insieme a tutte le altre parti sociali presenti in considerazione. Grazie a Federico Romano, presidente del gruppo Giovani ANCE, Napoli, per essere stato con noi. Grazie a lei, averlo. Grazie a lei.